Noi stiamo cercando il quinto Gentleman Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dei Gentleman Come tutte le cose belle c'è un inizio ma c'è anche, ahimè, una fine Ma proprio perché siamo alla fine e ne abbiamo passate tante Abbiamo deciso che forse è arrivato il momento di ampliare un po' i nostri orizzonti Che dico ragazzi? Manca qualcosa, manca qualcosa Quell'elemento da prendere per il... io sono stanco di essere... Ma quello cosa non manca, ah Ma tu pensi che serva un nuovo elemento al di sotto di te? Ma non può esserci Come non può esserci? Cioè una quinta persona che abbia un nuovo ruolo, ognuno di noi ha un ruolo E ce ne serve una quinta che abbia un nuovo ruolo La sua entità Ma come faremo a trovare questo quinto Gentleman? Con la lente di ingrandimento? No, faremo delle audizioni, il Talent Show dei Gentleman E come lo chiamiamo? Gentleman's Got Talent Che fantasia sublime Fantastico Sono proprio io Il Creativo Eccomi qua Il Creativo Direi di far entrare il nostro primo concorrente Prego Sono davvero curioso di vedere chi arriverà Look molto piacevole, lo ammetto Un Total Black Come ti chiami? Davide Davide hai tre minuti per convincerci perché dovresti essere il quinto Gentleman Posso essere una persona simpatica? Può essere, non è detto che lo sia Diciamo che mi adatto Sceglie lui, sceglie lui, è giusto Si adatta Si adatta L'occhiale La volevo correggere Non è Total Black Blu è Black Un attimo Un attimo Che burrito alle mani Ragazzi, ragazzi Solo per precisare No, è preciso A noi servono per le persone precise Una persona simpatica e precisa Volevo dimostrare la mia seconda E anche un poco cacacate Potrei ballare Potrei sempre È tutto a potenziale Sì, perché Ancora devo scoprire varie miei potenzialità Quindi lei è un talento incondizionato Condizionato Ah, anche incondizionato Condizionato Quindi lei ha gli arresti domiciliari? No Che cosa succede? È condizionare che è anche questo Cosa è successo? È in carcere È in carcere Lei è mai stato in carcere? No Ma che lavoro fa? Gioco con lo smartphone Ma è un lavoro? Certo che sì Megliori a 22 guadagnano molti soldi i giovani Lei si deve aggiornare Quante volte glielo devo dire? Musica non si può Certo, glielo faccio io Certo, vai Che musica che spacca Che musica che spacca Che musica che spacca E gli ventini si cantano così Che musica che spacca La mossa finale Che spacco Che spacco C'è da dire una cosa Uno che sa ballare ci manca È vero È arrivato il momento catartico Della domanda di cultura generale Allora Giovinotto In che anno L'uomo ha messo Il piede sulla luna Per la prima volta? 1900 Sì 50 No 60 Sì 8 No 7 No 9 Sì Lo sapevo Direi di passare le votazioni partendo da lei Duca Allora Indubbiamente affascinato dalla gioventù del ragazzo Dalle capacità atletiche Dal movimento pelvico Sì Diciamo così Cosa che Che io ho perso Che manca qui Per me È sì Ah E questa è una buona notizia ragazzi Ho anche notato un coraggiosissimo calzino bianco su abito scuro Per me è sì Non ho voluto rischiare È un tributo sicuramente che lei ha voluto portare al grande Michael Jackson Certo Lei sa chi è Michael Jackson? Sì Ah Bene Io non avevo visto il calzino bianco sull'atacchicardia Va bene Allora mi incuriosisse molto appunto il suo lavoro Come lei gioca con gli smartphone Oggi non me l'ha fatto vedere Ragazzi Lei non ha il suo dildo personale a portato di mano Ma perché lei lavora con un dildo Perché cosa fa lei? Mi sta dicendo che allora una pornoattrice si presenta con un dildo perennemente No Come no? Ma lo sa che questo giovanotto si è accannuto con lei? Le manca di rispetto Sarebbe stato un sì Ma Ma Il buon conte mi ha fatto notare che mi ha mancato di rispetto Perché se no da solo non se ne accorgeva Siamo a due sì e un solo no Il mio voto è fondamentale per capire se lei passa o meno Dalla porta Ci passa? Mi è piaciuta la performance Ma lei ha troppi capelli Potrebbe mettermi in soggezione Eh vabbè Sarà il pezzo mancante però se vogliamo Ma come si permette? Ma non si allarghi Purtroppo oggi devo dirle di no Ma ci sarà probabilmente una prossima audizione Grazie Alla prossima Ma devi trombare il coso No Salve a tutti Salve Ciao Ben ritrovati voi due che vi conosco già Murri Ex fan Ex fan Ah È una persona che è rinsavita e ha smesso Esatto A un certo punto si è ritrovato a dire Ma io sono più bravo Che c***o sto guardando Eh manca una persona qua E io ti chiamo Anche tu Come ti chiami Ma anch'io Oh intanto vedo una giacca e una camicia Sono soddisfatto Partiamo bene Mi piace Ha degli sneakers ai piedi Ma perché lui è sportivo È un gentleman sportivo Vedi poi comunque il colore è intonato con la camicia Sì Buonasera Salve Attenzione Un abito lungo Quindi c'è molto rispetto Sai adesso le ragazze giovani ostentano sempre la kosha no Con le minigonne Invece qua c'è Ah si vede Se me confondi Buon poveriggio io sono Jody Grazie per avermi dato del giovane In realtà non sono così giovane perché ho 28 anni Mi alzerei e ti prenderei a schiaffi Vabbè 25 ne avrai tu Per me questo ragazzo ha del talento Cerca di concupirsi giù E si riesce facilmente Mi chiamo Simone Berlini Ho 21 anni Vado per i 22 Sono abbastanza vecchio Perché? Mi sale il crimine ogni volta che aprono la bocca È ripartito bene Come ti chiami? Meriziel Sono io Mi avrebbe già convinto Ma cosa noi qui stiamo cercando Lei non rida che diciamo uno stacco di kosha l'ha mandata in disidio Sono Ilari Ah le Ilari Ilari e Blase Sempre lei Sono convinto di poter essere il quinto gentleman Perché sono capace di emozionarmi Che sicume era mi piace Mi ha incuriosito Occhio a non sparare le grosse perché io poi sono esigente Ma aspetta quindi il tuo lavoro è il commovatore? Che lavoro fai? Il tiktoker E cosa? Cos'è il tiktoker? Ehm Metti il telefono lì Fai quello che devi fare 15 secondi E allora facciamo una cosa Dato che a me interessa molto la pratica Abbiamo bisogno di sapere cosa sa fare signorina Io sono fantastica E questo credo che sia appurato da tutti Pensavo fosse già un buon motivo Ma noi siamo persone molto scrupolose A differenza di tutti gli altri che sono in realtà dei quadri che camminano Degli altri gentleman Perché alla fine a me capita di vedere degli aspiranti gentleman They wanna be Ah sì Parla inglese Poligono Yeah, yeah, sure Poligono And you? I speak English very well Ok, thank you so much From the day to the night Un attimo Se dobbiamo parlare d'inglese Un attimo Se non il nostro anglosassone per eccellenza Gentleman al plurale Gentleman Ci va la S Lei non ha studiato? Ci va la S Lei non ha studiato Lei non ha studiato Ho sentito che lei Hai del sangue veneto Eh sì Sono cresciuta in veneto Quindi sono una grande bevitrice di alcol Lei sa parlare la mia dialettica Eh, sai che no Se mi ti dico tipo vai in Mona Vabbè, vacci tu Non inviti il barone a fare quello che fa Ma lei non ha capito Ma guardi che vai in Mona Un complimento Allora io sono molto famoso Non c'è umiltà Mi piace? Sono molto famoso tra le mamme Ah Per un certo e breve periodo anch'io ma Io tra i papà Questa è la mia cosa più bella A me piacciono le mamme Un mammone No, no Si dice toy boy No Sono un gentleman Le tratto come principessa Pago io Anche se sei mamma pago io Addirittura Quelle si chiamano mi***e però Sì Mi trovo d'accordo Escort Escort Secondo me all'essere veramente eleganti Consiste nel far star bene Le altre persone Io credo Che nel 2022 Con tanto amore Merita un abbraccio E anche un applauso Farò le commoventi Cosa fai? Faccio finta di avere un telefono Ma siete il telefono Siete voi quattro Quindi bello pesante Che mimo Questa era solo la tua spalla Grazie E poi Posso anche fare Così Sono un problem solver Noi di problemi Ne abbiamo Ok Beh quello non è risolvibile Molto più vicini di quanto tu credo Rido Magia Questa qua è magia Ma io so suonare un sacco di strumenti Questa cosa ci serve Il musicista Piano piano Non è tipo tutto così No È tipo Eccolo qua È pesante Lei sembra un demente però A fianco all'olio Che strumento sai suonare? La chitarra L'ukulele L'handpan Che è un tamburo armonico Scusi? Le? Handpan Le palle? No Handpan C'è anche il movimento di capello No Io avrei evitato Punta e tacco E poi ruoti Così Di qua ce l'hai eh L'abbiamo perso Io invece avrei un'altra domanda Perché un buon gentleman È anche un uomo di cultura Oggi il Nasdaq A che percentuale era? Meno 0,4% Non ci siamo Non ci siamo ragazzi Quella è la risposta esatta Ma non devo saperlo io Ho una fila di persone Che lo sa per me Ma non ci siamo A una fila di persone Quando è stata scoperta l'America? Allora Oddio A me A me rigo che spulci Di che colore erano Le mutande del barone Durante la prima edizione Delle olimpiadi da gentleman Ma che c***o ne so ragazzi Signorina 1492 È giusta È giusta È giusta Ma mi permetta Quelle della settimana scorsa? Rosse? Eh sì Si ricorda bene la ragazza Perché mi sono confuso? Questa mattina Cosa ha mangiato il nostro principe? Pergolazione Allora Questa mattina Il principe Si è svegliato un pochino in ritardo No aspetta Il principe è Murray Non sei tu Ah tu Cioè già ti prendi un titolo onorifico Mi scusi Io già qua il buzzer Io lo lancerei addosso Piuttosto che buzzare Jody Ascoltami Noi siamo un gruppo coeso Danny è molto forte Thomas mangia tanto Io so fare tutto il resto delle cose E poi c'è Giorgio Ma tu Cosa sai fare? Niente di particolare Ragazzi ha indovinato Allora sa quando hanno scoperto l'America E io questo non me lo aspettavo L'outfit c'è nella sua interezza Per me Per il momento è sì Barone? Per me Le avrei detto di sì Ma non conosce il barone La negligenza si paga Simone Ti ho chiesto cosa sai fare all'atto pratico Mi hai fatto un sorriso e un puntatacco Mi aspettavo molto di più da te Posso fare molto di più non mi Ma io te l'ho chiesto prima Sai che io sono uno molto esigente Per me è no Potrei darti un sì per diciamo carineria Ma hai detto che sei un ex fan Quindi Anche no Per quanto mi riguarda Lei mi ha convinto Ok Fantastico Non lo dia per scontato Perché è un attimo che le dico di no Per me è assolutamente sì Grazie Allora ho apprezzato davvero l'abito Che copre le caviglie Quindi questo sa significare La pudicità della ragazza Assolutamente Si vede Sono curioso Di quello che potrebbe essere Il quintetto Con un quinto gentleman Del sesso opposto E per me sì Vediamo cosa succederà Potrei eliminarla In realtà no È già passata Ma voglio sapere il suo voto La signorina in questione Conosce i miei slips Un aperitivo Arrogante Che ci siamo concessi La signorina in questione Si è permesso di imbarmi Le butande Lei? Lei ruba le butande Le butande Le butande Non me le ha più restituite Lei cosa fa? Ruba? Mi dispiace ma Una ladra in mezzo a noi La vedo male Per me è un no Signorina Però sono passata lo stesso Sì però Quella mutanda lì Metterà in possibile discussione La sua riuscita Ci rivediamo più avanti In finale Jody grazie Sei giovane Puoi tornare l'anno prossimo Ma non sono giovane Ho 28 anni Sembri giovane Puoi tornare l'anno prossimo Grazie Apprezziamo La sua educazione E il suo modo di porsi Anche a livello estetico Grazie Grazie per aver partecipato Sinceramente Un uomo bello senza barba Non si è mai visto Non mi hanno preso Vabbè mi metterò a piangere Perché ti hanno scartato? Perché non conoscevo L'altro Thomas Prego Che piacevole look Buongiorno Piacevole look Già che non vedo la cintura E la scarpa non è adeguata Ma si presenti prego Io sono Blink Sono perfetto a modo mio Mi dispiace Come caffè E sono anche molto sbadato Quindi Vedo Manca il bottone Primo della camicia Che giovanotto Interessante Questo è il look Del nuovo millennio Una big bubble È altissimo Ciao piacere Sono Simone Buratti Faccio lo streamer E ho 21 anni E ho un'azienda In Santa Cruz Un'azienda che si occupa di? Custode di paradisi segreti Cosa avrà voluto dire? Non lo so Ma la cosa mi interessa Dopo lo spiego Anche a me Io mi occupo di tecnologia Cosa molto carente Nella giuria In questo caso Quello è vero Non so come faccio a saperlo Però effettivamente E di cosa si occupa Principalmente Nell'ambito tecnologico Io mi occupo di tutto Nell'ambito tecnologico Anche criptovalute NFT Questo ci manca ragazzi Le criptovalute Sono l'investimento del futuro Gli NFT Bitcoins E Ethereum In un gruppo di gentleman Ci deve essere qualcuno Che cambia qualcosa Ci sono tutti vestiti uguali No io sono uguali Ma per piacere Guardi che abito Tutti con la cravatta Perché siamo gentili No Con la gravatta Ci deve essere qualcosa di differente In un gruppo Non è anche così Una sana via di mezzo Ma infatti sono qua Io sono l'iperbole Per farmi cambiare Il mio caro Blink Cosa sa fare per intrattenere il pubblico Io so abbastanza intrattenere E comunque far ridere più di Murri Non ci vuole troppo Attenzione Attenzione Sta forse giocando A insulti tra gentleman Sarà che Ah è una citazione Credo proprio di Pirichino Pensavo di dovergli Saccagnare le palle Invece no Posso dire il solo Gli sciogli lingua velocemente Questo mi piace Forse però Pietro Potrà proteggerci Forse però Pietro Aspetta Alla guida inoltre Sono decisamente Superiore a qualcun altro Non facciamo commenti Del parcheggio Io direi che si sta sbilanciando Un po' troppo Nel suo caso Più che sbilanciare Direi sbilanciere Forse perché Forse però Pietro Potrà proteggerci Forse però Pietro Potrà potrà Aspetta Ma lei nel suo lavoro Sa formatare il computer Assolutamente sì Certo Posso cancellare Tutto quello che vuole Dalla sua vita I suoi malfatti Le sue ricerchine I suoi pruriti Dovevi vedere Dove viveva Vivienne Beh un altro Deve sapere che Thomas Ha un problema Con la cronologia Del browser Certo Quando va per cancellarla Vede i nomi E di nuovo incuriosito E riclicca Ed è praticamente È un circolo vizioso Lei sa sistemare Questo problema? Certo Ma soprattutto Lei naviga in modo sicuro? Questo è un link Ah No È un blink Che è questo? Io sono l'hacker gentiluomo Ho saputo che voi siete pieni di denari E sono qui per entrare nei vostri profili Rubare i vostri dati sensibili No le passa da anche E ridurvi sull'astrico Finirete tutti sotto un ponte No il ponte no Si fermi buon hacker Ragazzi ragazzi Ma lasciatelo fare Lasciatelo ridere Lui dice così Perché non sa che noi utilizziamo NordVPN Meno male Meno male Già mi immaginavo il ponte Ma va Lui pensava di rubarci i dati sensibili Le password Tutti i conti bancari Ma se utilizzate NordVPN Tutto questo È solo un brutto ricordo Grazie Mi hai salvato Non me lo aspettavo questo Sono rimasto Diamoci la mano Ok Caro hacker mi dispiace Purtroppo oggi è il tuo giorno sfortunato Ma siccome ti vedo che sei veramente In difficoltà proprio di natura Ho deciso di essere buono con te E con tutti quelli che stanno guardando questo video Quindi se cliccate sul link in descrizione O andate su nordvpn.com Slash gentleman Usufrirete di uno sconto grandissimo E poi c'è sempre la garanzia 30 giorni soddisfatto rimborsato È vero Quindi per te Sono 4 no Ora ridiamo noi Bifolco E comunque io abitavo già sotto un ponte ragazzi Signor Blink A me è piaciuto molto la sua esibizione Mi ha convinto Perché io sono lungimirante Guardo gli investimenti futuri Quindi per me è un sì Grazie mille Io mi accodo Mi ha parlato di quelle cose Che ho sentito essere molto forti Nel mondo del bluf O qualche milioncino Li fermo Non so cosa fare Ci pensi lei Non me ne intendo Quindi premesse Perfetto Ma io sono talmente ricco Da fare schifo Che prediligo L'intrattenimento Per il nostro pubblico E non La mera ricchezza materiale Sono già Ricco Ricco Dell'amore Dei nostri follower Per me è no Accetto assolutamente A questo punto Barone è tutto in mano sua Posso salvarla O Eliminarla Esatto Noi cerchiamo un gentleman E questo abbigliamento Poco si confà Non cerchiamo Una mascotte No Mi spiace Io ho apprezzato Le sue doti oratorie Secondo me Al giorno d'oggi Che già lei sappia parlare Sappia comporre un periodo Rispetto già al varone È una qualità in più Quindi per me è un sì Io sinceramente Non ho ancora capito Il suo lavoro Lo streamer cosa fa Contremme Streamer Ah Contremme Sarei interessato A partecipare a questi streamer Quindi per me è un sì Una sola domanda Lei con il suo lavoro Sarebbe in grado Di eliminare TikTok Volendo sì Certo Per me è un sì Allora complimenti Signor Blink Lei passa ufficialmente Alla fase finale Un piccolo applauso Incoraggiamento Ci rivediamo in finale Grazie mille Ci rivediamo in finale Grazie Quello che non mi ha convinto È la sua attitudine La vedo quasi sbogliato Come se non avesse Il desiderio Di essere realmente Parte dei gentleman Quindi Adesso dico no Ma voglio rivederla In futuro Mio giovane padawan Grazie Sono Sono emozionato Si vede La corrego Non l'è padawan Lei l'ha chiamato padawan Va bene Grazie ragazzi Per la possibilità Grazie a lei Per essere qua Ma che cos'è Le ho detto Ci rivedremo presto Le dice Ma è più Ognuno ai suoi gusti È proprio il momento giusto Si comincia Prassimo concorrente Motore Azione Fa tutto lui Ah Buongiorno signori Ah ma io già li conosco Molto piacere Io sono Nicola Faccio parte di Carmageddon Io sono Matte E io sono Rudos Stiamo già ritirando E facciamo video a tema motori Come voi avete visto E partecipato E quest'oggi Vi abbiamo portato Una prova La prova che affronteremo È la prova Del sollevamento Di Mjolnir Il martello creato Dal buon Matteo Nella nostra fucina L'hanno creato i nani di Asgard Ma va bene Lo stesso Noi siamo qui Per essere giudicati Degni Di essere un gentleman E si sa che Chi solleva il martello È degno Di qualsiasi cosa È degno punto È degno bravo Alla vita Qualcuno di voi Non è degno Neanche di andare In giro per strada Con quella calzatura Io credo Io sono quello Proprio meno degno di tutti Avere il privilegio Di essere a contatto Di poterlo toccare È questione di nobiltà Questione di onore Cose necessarie Per essere un gentiluomo Di oggi Giusto Sai cos'altro è necessario? Non mettere la cintura marrone Con le scarpe nere Mi sento cero Adesso ti voglio Spirare la cintura Dimostragli le cose Oddio Questa è la dimostruzione vera Che uomo forzuto Adesso mi sento già Un po' più gentleman Adesso l'opposo Ragazzi La vera domanda È se uno di loro È veramente degno come noi Sì perché finché si guarda È facile E io Che rimuovo Che di muscoli Me ne intendo So chi è degno Barone Il classico Barone È il suo momento È il suo momento È quel più mengerlino No Ma lei si botta giù Con quella barba vichinga Chi se non lei Sappia Barone Che è stato Prodotto nelle buie Fucine Fornaci del Carmageddon Inciso A mano E ricavato dal pieno Quindi si parla di un articolo Di 35 kg Non si approcci con sufficienza Perché potrebbe spezzarla Ma con rispetto Barone Molto rispetto Mi raccomando Vabbè Lo impugno Come impugnerei Sì Sì esatto Oh vediamo È il momento Attenzione lo smuove Assaggia il peso È degno Ce l'abbiamo Non farlo scivolare Thomas Non farlo scivolare nel pavimento Thomas No È visibilmente La penella Lo vedo bello rosso in faccia Vedo tutti i colori Dell'arcobaleno Sopra la testa Barone È incredibile È quel momento lì Che pezzi di sfida Che posa maschia Si prende gioco Di tutta la ciurla Attenzione Chiedo l'aiuto del pubblico Oh Bravo Meritatissimo Barone per me è sì Ah attenzione Un attimo Dopo il workout C'è il suo shaker personale L'integrazione Il sidro di uva Sì La bevanda preferita Dalle creature gnomiche Quindi Una prova Veramente difficile comunque Ci manca un tuo amazing Un cosa? Un amazing Oh oddio È la prima volta Si è confuso Torni a posto Barone Torni a posto Mi faccio da guida Scompensato Ragazzi noi vi ringraziamo Per il dono Per la mise E tutto quanto Ma voi lo sapete che Soltanto uno di voi Può passare Abbiamo un solo posto disponibile Questo è un bel problema Come la risolvete Questa problem solving? Che se ne va uno solo Vincente E gli altri due a casa Facciamo una domanda Di cultura generale L'abbiamo fatta a tutti Perché sottrarre loro? Io vado già a casa Come si chiamava Il nonno di Heidi? Oddio Mi ricordo solo Il vecchio È molto più facile Di quanto si pensi Che bella domanda però Facciamo Dragon Ball Facciamo robe un po' più serie Ce l'avrei anche su Dragon Ball Ah ce l'ha su Dragon Ball Quanti uomini ha avuto Bulma? Sì vabbè Ah due Nome? Vegeta e No Yamco e Vegeta Yamco e Vegeta Sì prima era ragazzina In Dragon Ball normale Io sinceramente me la sono fatta Tante volte nei cartoni animati Poi si è svegliato sudato Sì Però era giusto Però era giusto Bravo bravo Quindi Matteo Matteo prende Direi di passare alle votazioni Sono d'accordo Or dunque Per me È un sì Perché ho apprezzato veramente L'originalità della vostra performance Grazie Grazie Però ovviamente posso scegliere Uno solo di voi Quindi Devo valutare un attimo I vostri outfit Rudos Bravo Cioè mi piace diciamo Questo total black Però la scarpetta Mi pecca un pochino Senza calzino Eh senza calzino Lo sai già allora Che cazzo sei venuto a fare così Buon Guada Mi piace moltissimo La sua pochette Bella Estroversa Guada che pochette Gua Lei si vede che è già Però un po' troppo elegante Con questa sneaker Eh 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 Giusto Matte Eh però Quella cintura di merda Do il punto a Guada Si accetta e si va a casa Per me Sinceramente Andate a casa Tutti e tre Severo Severo Ma doveroso Perché Perché lo decido io Eh vi deve bastare così Si si no ci basta tantissimo Per noi è un onore Anche essere qua Bravi Sai bene come leccare il buco Essendo Legato anche Affettivamente ai ragazzi Come non si può Prediligere un figlio Quando ne sia più di uno Non me la sento di sceglierne Uno dei tre Quindi È un no Molto apprezzato Correttissimo Io ragazzi vi dico Semplicemente di si Questi qua Metto sempre in giro Quindi nel caso Che cata un altro Venio con altri Siamo che altri quattro E venio fare motorio Perché se no Questa è la lingua Degli dei Con la quale di solito Interloquisce Con i nani Che crearono Il martello Questo era Asgardia Si Quello un po' più stretto Il dialetto Il dialetto Ragazzi mi dispiace Vi servivano tre si Per passare alla fase successiva Sarà per la prossima volta È stato comunque Un mega piacere Il piacere è sempre nostro No ecco Sono matte e degno Con una mano E se ne va via ballando Io prendo il tronco Attenzione C'è un pomeriggio Sì Barone Lei si fa trasportare Dalle emozioni Che non è in grado Di controllare Tenga a freno I suoi ormoni E cerchiamo di essere Più professionali Possivi Sospira È già stanco Gli dà fastidio Essere qua Che passo Salve 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 Un altro capellone Ma questi giovani Da dove si buca Quanti capelli hanno Cosa vi mettete Il concime Forse nella capa Come ti chiami? Florin Un nome interessante Sir Florin Sir Florin Già un titolo nobiliere Mi piace Surfista Surfista cosa? Sir Sir Florin Ah ho capito surf Scusi Come si chiama? Io David Cosa fa nella vita? David Vado avanti Che è molto importante Andare avanti Lavora 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 Lui sa Dove vuole andare Avanti Virginia Gambatesa In arte kafkania Sì Entri così Allora lei Di teso altro Probabilmente in questo momento Ma non è il momento Adatto Fate calmare Vabbè ok ok Io potevo Niente Sì A lei ne voleva approfittare No 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 Non lo so Vi lasciamo soli Non si può bloccare una persona Nell'esprimere se stessa Mi piace perché Ci sa fare intanto Già col Mi ha confuso Cosa fai nella vita? Stupisco In che senso stupisce? Ha bisogno di un fazzoletto? No Ma sono curioso Sì Per ogni convenienza Ecco a lei Ho dovuto rispetto Grazie Che gioco di magia Guarda Non è magia Ce l'aveva nel taschino Ne ha bisogno anche lei Sapete che cosa ha fatto? Ragazzi Ha instillato in noi Il desiderio E ci ha venduto un fazzoletto Lei che cosa sa fare? Allora So fare tante cose Sicuramente Posso dire che Sono brava molto a cucinare E fa parte della mia vita Anche se non è il mio lavoro Però Lo faccio per hobby Mi piace cucinare Sono pugliese Sono di Bari La pasta fatta in casa Signore La pasta fatta in casa Però Però scusi Chi la fa in casa? Voi fate in casa la pasta? Parlando Quali sono le sue caratteristiche Capacità intrattenitive Dato che lei è un influencer? Appunto Un attimino sulla simpatia Ce provo Perché sul fisico Insomma Vabbè Se fa quel che se vuoi La simpatia è importante Per un gentleman Lei ha un suo format Una sua line up Tipica Con la quale Intrattiene il suo pubblico O va a braccio? Di solito vado a braccio Dipende da quello che vedo Diciamo che faccio Delle reaction A determinati video Ah Quindi lei usa Le comiche studiate Da altre persone Per guadagnare dei soldi Sì Mi piace dove sta Mi piace Mi stringa la mano Grazie Mi stringmi la mano Non vorrei lasciarla a cosa La tua nobiltà Nasce dalla compravendita Di fazzoletti Assolutamente sì Hai tempo E dal fatto che non sa contare In quanto abbiamo Quattro gentleman E lei ha portato Tre fazzoletti Che cosa fanno? La stupita Mio dio È proprio vero Lui stupisce Notare che il mio è quadrato Il vostro era rettangolare Mi scusi Cosa fa? Si spoglia La cosa mi interessa Ma gli Attenzione Ah no Ce l'hai anche rettangolare Posso chiederle Se hai in mente di andare avanti Così e bruciare i suoi tre minuti Tirando fuori i fazzoletti Che di sicuro ha preso Dalla sala d'attesa La ringrazio Non era un complimento Ma la cosa mi piace Mi ha stupito un'altra volta Lei come ce l'ha la patata Come cucina la patata Dipende Ci sono tanti modi Per cucinare la patata La lascia con la buccia O senza No quella è una questione di gusti Ma lei come ce l'ha? Ma che sta succedendo? Regista Io posso scegliere di uscire È un buon gustaio La buccia è molto importante ragazzi Un attimo Perché tra l'altro La nostra candidata Sembra secondare Quindi lasciamoli finire Fonte di vitamine Minerali Quindi lei Qualsiasi cosa È tutto lì Lei c'è la buccia oppure no? Non può allontanare Non può allontanarlo Mi scusi Lo facciamo per la sua incolumità Ma passiamo Alla domanda Di cultura generale Perché un buon gentleman Deve conoscere Lei sta facendo intanto Degli origami Parliamo di origami Quanto pesa L'origami Più grande Al mondo E di che forma è? Ci stupisca Un altro fazzoletto Chi ha scritto I promessi sposi? Quindi Renzo e Lucia? La storia di Renzo e Lucia Ho un vuoto totale? Succede spesso Ho un vuoto Non dia indizi lei Percavo di aiutare Un grosso Uno grosso cos'è? Ah manzoni Bravo Perché è un vuoto È un vuoto Può capitare Può capitare Però la sapeva Ma facciamone un'altra Diamo sempre una seconda chance Posso chiederle A che ora passa il 15 Mio Dio Che cosa esilarante È incredibile Mi sta concupendo Mi ricrescono i capelli Se andiamo avanti così Lo farei per tutta la mia vita Però nel senso Sono persone Che possono benissimo dire Guarda io mi faccio uno sketch Mi faccio una cosa Mi preparo a casa Ha delle patatine Che mi metterei qua comodo Però che te la prepari a fare Nel senso di Rimane lì Rimane lì È troppo semplice Guardi io non so neanche più Di cosa stiamo parlando Perfetto Anche per lei Un altro Io sto facendo una collezione Una bella paura Ha capito che la cosa ci piace E non vuole mollare l'osso È la mia passiva Immaginate questo agli esami universitari Funziona sempre Ora Ha sempre funzionato Non so se anche questa volta Può funzionare Quali sono gli ingredienti Della carbonara Allora Intanto Io vorrei protestare Per quelle persone Che mettono i viustel O addirittura la panna No Vergognoso Vergognoso Si pensi che ci sono persone Miserabili Che ci fanno canzoni Sulla panna E ce lucrano Queste persone proprio Wow Ci siamo arrivati dopo Ma va bene comunque L'importante è arrivare Allora La cucina Ha funzionato L'abbigliamento Perfetto Mi dia una mazzata Tra capo e collo Così mi sveglio Dopodomani Uovo Pepe Pecorino Tu stai aspettando Se ti dico la pancetta Or guanciale Or guanciale Che te vuoi sentire Lei non deve suggerire La pancetta La tieni te Io mi metto il guanciale Perché tu sei più uno Da pancetta Anzi lei Mi scusi Io intanto non la cucino Perché ho i miei cuochi Quindi quello che Ci vogliono mettere loro Ci mettono Io mangio E basta Però secondo me Una figura femminile Potrebbe giovare Alle nostre future produzioni Quindi per me è un sì Brava Non ho capito nemmeno come si chiama E non è ancora finito niente Quindi immaginate Sì Ti prego Parla tu Per me è un sì Come mai? Sto attualmente investendo In molte società Che producono carta E lei sarebbe un ottimo Cartografo Un ottimo Un ottimo Un ottimo Mi accodo al giudizio del barone Mi è piaciuto Lei ormai l'abbiamo persa Per me è un sì La ringrazio Vado io Facciamolo finire Così poi è contento C'è un pregiudizio Poi un giudizio Cioè pre Non pregiudizio Pre Cioè prima del giudizio No Non può farlo È contro le regole È contro le regole È contro le regole Non si può fare Ho apprezzato fin da subito La sicumera Con la quale si è presentato Mani in tasca Petto ruto Tronfio Quindi per me È sì Allora Mio signor Ho perso il nome Giovanni o Davide Scegliene uno dei due Luca Perfetto Signor Luca Sì 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 Signor Luca Nella carbonara ci metta il guanciale E nella matriciana Nella matriciana metto la pancetta Metto il guanciale Eh Si è sbagliato C'è il guanciale anche nella matriciana Mi dispiace Per cui Per cui un no Per me è un sì signorina Perfetto Però io come ultima analisi Abbiamo del tranquillante per elefanti Sì Lei ha due sì e un no Due sì e un no Quindi Chi manca? Manca il conte È vero Però Che non è riuscita a parlare Però No conti di lei Parli Le avrei detto sì perché ha azzeccato correttamente tutti e quattro gli ingredienti della carbonara Però sono un po' contro il freebooting dei contenuti Quindi visto che lei fa principalmente reaction devo dirle di no Non principalmente Però è successo di reactare qualche video mediocre Sì dipende che canzoni tu la fanno È l'unico per il momento che mi ha realmente stupito Quindi per me è sì La ringrazio Sono tre sì vediamo Duca Duco Manca il suo I pazzoletti fanno c***o No Provi questo Ah ce n'era uno nuovo confezionato è bello Conte siccome Io non riesco io suono ma non si ferma Io non sento niente Non riusciamo a fermarla È veramente un peccato signorina Noi avremmo voluto in sicurezza in questo progetto Sicurezza io la terrei qua volentieri Ma infatti è stato un piacere Il tempo è scaduto non riusciamo Sicurezza Non possiamo dire tante di quelle cose ancora La signorina doveva andare al bagno Grazie Sei stata carinissima Grazie È un peccato Le faremo sapere presto È un peccato Sono buoni Le ho fatto Infatti io È come se ne avessi fatti io Come se fosse già una gentleman Sono buonissima La lasci pure in reception La lasci Grazie Grazie Veramente è un piacere Mi sento particolarmente magnanimo oggi Perché comunque la sua simpatia La sua spontaneità Ha regalato grande sollievo Grande benessere È vero Quindi per me era simpatia Per me era sì Perfetto Purtroppo Non è bastato Ma non si sa mai Arrivederci Grazie Ah grazie Sono tre sì Quindi passa ufficialmente Alla fase successiva Cioè la finale Quindi grazie E ci vediamo dopo Grazie mille Rimanga pure qui con noi E troverà altri fazzoletti da rubare Proprio Esatto Arrivederci grazie Arrivederci per la giornata Andò mai le spalle Ah questa simica educazione Stia attento Perché lì c'è un simpatico E grazioso omino Che piace Andiamo col prossimo per favore Che è lo dice da arrabbiato Buonasera carissimi Buonasera Finalmente della masculinica barba Già un punto a suo favore Molto piacere Chiari Io sono Andrea del 1988 Mi piace il tono Mi piace il tono Nel 1988 Può ripetere il suo nome scusi Andrea esimio Andrea Vedo che però anche lei Ci sta sciorinando Una padronanza lessicale Di tutto rispetto Scusate Ogni tanto ci sta Ogni tanto ci sta Carissimo Andrea Dica ai greci Perché lei Dovrebbe essere il quinto membro Dei gentleman Qual è la sua capacità Intrattenitiva Nei confronti del pubblico Io sono molto Sul pratico Beh sicuramente Possiamo dire Che dispongo Di un'ottima proprietà linguistica A cui associo A tratti Un'evidente demenza Nel comportamento E senza ombre di dubbio Quando voglio Sfoggio uno charme Ineguagliabile Quando vuole Però non oggi Perché io Me l'aspettavo un po' più elegante Sono ingrassato Non mi stava più un cazzo in casa Ok Apprezziamo l'onestà Apprezziamo l'onestà Infatti i pantaloni Non erano strappati Cioè li ha strappati Ma i pantaloni Tra un punto Spodo il bottone in fronte Secondo io Effettivamente anche noi Con il look fisico Ci siamo un po' lasciati andare Quindi lo sento già Parte della famiglia In quel punto Io proseguirei Con la domanda di cultura generale Ma credo che Il cui presente Sia parecchio preparato Non vorrei fare Una figura pessima Vada sul difficile Vada sul difficile Vada sul difficile Vada sul difficile Mi permette? Vada sul difficile Ci elenchi le tre equazioni di Maxwell L'unica cosa che mi ricordo all'università Non ho mai visto un film di Maxwell Ovviamente Maxwell Il famoso fisico Sì Integrale Che tende a infinito Di y uguale a x Al quadrato Logaritmo pi greco Fratto 2 Diviso c Alla terza Barone quanto fa? 69 Risponde sempre all'equazione Diviso 2 Però c'era Intanto il 69 Non si divide mai Diglielo A me è piaciuto Quindi Per me è un sì Capacità intrattenitive Proprietà di linguaggio E' pur vero che Io mi aspettavo Un abbigliamento Da gentiluomo Ma non è l'abito Che fa il gentleman? Non nel nostro caso Nel nostro caso sì Non dico più niente Quindi per me purtroppo è no Che dire Si è addirittura permesso Di chiamare il buon duca Egregio Non è un egregio E' un duca In effetti A me ha dato del Esimio Ma come si è permesso? Ma come si è permesso? Signore Ma chi è lei per dare dell'esimio Al cui presente barone? Sinonimo di lustre Lei è il lustre? Non mi pare Neanche un po' Ma si faccia gli affari suoi Glielo dite Ecco Quindi per me è un no Lei è anche un cafone Se lo lasci dire Nel caso mio invece Mi trovo qui Ad abbracciarla Con grande amore Uno per il coraggio Nell'ammettere che C'è sfuggito di mano La situazione E ci siamo un poco Lasciati andare Ma io comprendo In secondos Che paride Mi trovo qui Ad apprezzare Il linguaggio Forbito Quindi per quanto riguarda La mia opinione E' sì Ahimè Caro Andrea Due sì E due no Non sono sufficienti Per passare Alla fase successiva Però apprezziamo davvero Il suo charme Vi ringrazio caro A presto Esimio A presto Esimio Ragazzi Abbiamo tre finalisti Florin Che ci ha stupito Con i suoi Fazzoletti Fazzoletti infiniti Abbiamo Blink Che potrebbe farci Davvero comodo Con la sua informatica E poi abbiamo Merisiel Che darebbe Diciamo Un volto Più inclusivo E' difficile Scegliere però Uno solo Ragazzi Come facciamo Però Gentiluomini Perdonatemi Ma Se ognuno di noi Ha un seme Delle carte E i semi Sono quattro Vorrà pur dire qualcosa No E' vero D'altronde Quattro sono Le carte Quattro sono I moschettieri Esatto Quattro sono Gli street sharks Quattro sono I peretabris Sai che c'è? Siamo a posto Stiamo a vedere così Ma sì Ma sì Vabbè Adesso però Tocca di Ok? Vabbè Diciamoli Facciamoli rientrare Purtroppo Purtroppo signorina Sono portatore Di notizie Non buone Ho fatto Attivare I miei investigatori E hanno Mio malgrado Appurato Che lei ha Realmente Sottratto Le budande Del nostro Del nostro Esimio Varone Una ladra Non può Far parte E' terribile E' un'accusa Pesantissima E chiedo scusa signorina Con tutto quello Che poteva rubare Proprio le budande Non sono stata io Mi hanno incastrato Te lo giuro Per noi è troppo un rischio Mi dispiace Per il momento Purtroppo È no Ok No signorina Non faccia così Per piacere Avremo modo Di risentirci Signorina Ma vada Avremo modo Di risentirci Signorina Saresti più bello Di noi quattro E la cosa Non potrebbe andare bene Non funzionerebbe Non funzionerebbe Purtroppo Florin Per noi È no Con permesso È un altro fazzoletto Non mi aspettavo Niente di diverso No infatti Link Sì? Dato che Per la legge Dei grandi numeri Io ho sempre ragione Certo Sei fuori Lei prima mi ha detto Di essere molto ricco Si ricordi che Lo rimarrà per poco Noi Non abbiamo paura Degli hacker Noi abbiamo Norviziene Signori Questo video Può concludersi qui È stata una bellissima Operazione di talent scouting Ma Non abbiamo trovato Diciamo Il gentleman Che fa per noi Vi ringraziamo per aver guardato Questa edizione Dei gentleman Spero che vi sia piaciuta Noi ci siamo davvero divertiti A girare tutti i contenuti Ringraziamo ovviamente Norviziene Per aver sponsorizzato Questo video Tutti i link Sono in descrizione Come ovviamente In descrizione Sono i link Del nostro Duca del Merluzzo Del nostro Barone di Marenduzzo E del conte Della Mastellanza Non vediamo l'ora Di rivederci In una prossima edizione E nel frattempo Buon proseguimento Buon proseguimento